Ciao Cristina e bentornata sul palco del freelance camp. Ciao, grazie Alessandra. Cristina nasce come digital strategist e adesso si occupa soprattutto di data visualization. Infatti nella welcome bag che vi ha venuto stamattina, avete trovato anche un suo ebook sul raccontare storie con i dati, ma oggi il suo talk non è sulla data visualization, non è sulle strategie digitali, ma è un meta talk su come usare al meglio lo stare nel freelance camp che, come molti di noi possono testimoniare, in questi anni ha aiutato molte persone a creare reti e a farsi conoscere, ma vogliamo tutti imparare a usarlo meglio giorno dopo giorno. Cristina ti lascio il palco. Grazie mille. Ciao a tutti e a tutte. Questi consigli che vi propongo oggi nascono dalla mia esperienza con il freelance camp, quindi sono consigli totalmente soggettivi che però nascono dal mio metodo che è analitico e, come ci insegnano anche gli informatici e le informatiche, un continuo sperimentare attraverso prove ed errori. Quindi io penso che questi consigli possano essere applicati sia poi ad altri ambiti del networking sia poi applicati da persone comunque diverse da me. Nascono anche da quella che è l'economia relazionale come spunto di riflessione e intendere quindi gli scambi anche professionali come relazioni e quindi come un impegno a lungo termine. I consigli sono sei. Esponiti, scegli, comunica, costruisci, esplora e condividi. Partiamo. Esponiti, esponiti con coraggio. Il freelance camp ci dà tantissimi strumenti per far conoscere noi il nostro valore e il nostro lavoro. Prima di tutto ci sono le interviste. Non abbiamo sempre voglia di rispondere alle interviste, io per prima, però sono un ottimo modo per farci conoscere e per appunto parlare del nostro lavoro dal nostro punto di vista. Per questo motivo quando rispondiamo alle interviste cerchiamo di metterci nei panni delle altre persone. Quindi cerchiamo di tenere alta l'attenzione delle persone che leggono, che abbiano voglia di arrivare fino alla fine. Quindi evitiamo di rispondere in maniera eccessivamente prolissa e per lo stesso motivo evitiamo di rispondere in maniera troppo minimale. Io adoro il minimalismo, però a volte arrivo alla fine di un'intervista in cui non ho ancora ben chiaro l'unicità, il valore di quella persona. Poi c'è il networking corner. Allora, a me capita e ho sentito altre persone quando un cliente o una cliente mi chiedono un servizio di cui io non mi occupo e non mi viene in mente subito qualcuno che è adatto. Vado nel networking corner e faccio ricerca per vedere se c'è qualche professionista adatta e disponibile. Quindi che cosa faccio? Metto il filtro per ambito settore e professionalità e ottengo una pagina con tutti i risultati. Prima discriminante, lo sappiamo, le immagini comunque attirano la nostra attenzione. Quindi un profilo con l'immagine rende un po' di più. Ma la cosa più importante è che in questa pagina con tutti i risultati, la prima cosa che io leggo è l'anteprima del vostro testo. Quindi sono le prime due righe. Mettiamo sempre la cosa più importante all'inizio. Se io leggo qualcosa del tipo, ciao, mi occupo di supportare le piccole e medie imprese e i liberi e le libere professioniste, mi sono giocata due righe di anteprima e io che leggo non ho ancora capito effettivamente qual è il tuo lavoro. Quindi mettiamo prima la cosa più importante in modo che le persone capiscano subito se possono cliccare per poi leggere in maniera più approfondita il profilo. E poi devo dirlo. Mi è capitato proprio ultimamente di trovare dei liberi professionisti e libere professioniste nel networking corner senza il sito web. Io lo so che quando si comincia un'attività, il sito web è difficile da costruire, da creare perché richiede consapevolezza, richiede di conoscere e utilizzare risorse per trovare i professionisti, le professioniste adatte per costruire il sito web. Richiede anche una risorsa economica, ma è essenziale un sito web personale. Io nel networking corner i professionisti e le professioniste di cui ho letto il profilo che non avevano il sito web non le ho neanche prese in considerazione. E poi ci sono gli interventi. C'è questa leggenda che narra che una delle più grandi paure dell'essere umano sia parlare in pubblico. Io non lo so, non lo so se è vero, però mi rivolgo soprattutto alle persone un po' più introverse o ansiose. Parlare in pubblico è una competenza ormai trasversale. Ci è utile in qualsiasi lavoro noi facciamo. Utilizziamo e sfruttiamo il freelance camp come palestra per allenarci, per imparare. Alla fine il pubblico del freelance camp è amichevole, è disponibile. Quindi lanciamoci. Gli interventi del freelance camp hanno una coda lunga, lunghissima. Poco tempo fa volevo comprare un corso, non ero sicura che facesse al caso mio. Ho recuperato proprio l'intervento di questa professionista del freelance camp di 4-5 anni fa. Ho visto un intervento, mi è piaciuto il suo approccio professionale e ho comprato il corso. Quindi anche gli interventi vanno avanti a lavorare per noi per parecchio tempo. E accettiamo anche di fare quelli che io chiamo interventi trasversali, come quello che sto facendo io oggi. Non mi occupo del freelance camp e non mi occupo di networking. Come quello che ha fatto Alessandra Farabegoli, che è diventato leggendario, I conti della serva, che addirittura come grandi film abbiamo continuamente sequel. Mettiamoci quindi nei panni del pubblico. Pensiamo e proponiamo interventi che pensiamo possano essere utili alle altre persone e non soltanto quindi per vendere un nostro servizio o un nostro prodotto. Il secondo consiglio è scegli in base ai tuoi valori. C'è una grandissima discussione all'interno della libera professione che ha anche coinvolto il freelance camp in vari momenti se si debbano accettare tutti i clienti o se i clienti si debbano scegliere in qualche modo. Io faccio parte delle persone che dice di sì ai clienti, indipendentemente dal fatto se i clienti mi piacciono meno. Quindi io dico di sì a una richiesta di un servizio di cui io mi occupo. Invece quando faccio networking scelgo le persone. Scelgo le persone in base a dei valori che penso che abbiamo in comune. Scelgo le persone in base al loro stile professionale, al fatto che alcune persone le sento più simili a me nell'approccio anche professionale. In questo modo fare networking che è comunque un'azione di lavoro che mi richiede anche dell'energia e del tempo diventa un'azione piacevole e la rete che sto costruendo è una rete estremamente efficace e molto potente. Quindi comunica. Comunica con trasparenza. Le relazioni professionali sono comunque relazioni. Possiamo essere diretti se contattiamo una persona perché abbiamo bisogno di qualcosa, magari di un consiglio, oppure se la contattiamo perché vogliamo anche far conoscere un nostro servizio. Dobbiamo avere gentilezza e rispetto per tutti i tipi di relazioni, soprattutto quelle professionali. Da questo punto di vista scegliete il canale e le modalità che voi preferite. Io mi trovo bene a scrivere, quindi utilizzo le mail. Ho solo LinkedIn, quindi uso i messaggi privati su LinkedIn. Approfitto anche per fare outing in una certa forma. Quindi se io in questi mesi, in questi anni ti ho scritto un messaggio, una mail, è perché mi piacevi, è perché mi piace il tuo approccio professionale, è perché mi interessa conoscermi. Non ho bisogno di niente. Mi piace comunicare in modo trasparente e un grande aiuto in questo sono per me gli Zoom Club. Prima di tutto perché essendo il networking una pratica professionale, mi aiutano a darmi un po' un calendario e programmare anche delle azioni di comunicazione. Attraverso lo Zoom Club io ho conosciuto nelle stanzette tantissime persone nuove che mi hanno aiutato ad uscire dalla mia bolla. Persone con cui poi appunto ho mandato magari dei messaggi successivi per approfondire la conoscenza, per restare in contatto. Persone con cui poi ho creato delle occasioni attraverso degli incontri su Zoom, che si sono trasformati in progetti, che si trasformeranno in progetti condivisi. Lo Zoom Club ogni tanto mi dà anche l'occasione per contattare le persone un po' prima. Allora ci sei venerdì perché magari mi fa piacere avere l'opportunità di rivedere, rapportarmi con quella persona. Quarto consiglio, costruisci relazioni. L'economia relazionale ci spinge a intendere appunto gli scambi basati sulle relazioni e non solo sul nostro vantaggio immediato. Ci spinge a intendere le relazioni e le persone come degli impegni e dei progetti a lungo termine. Quindi siamo disponibili verso gli altri. Come dice sempre Deborah Ugolini, non sai mai da dove arriva un cliente. Costruire relazioni significa costruire una rete che poi funziona da passaparola. Io sono stata al mio primo freelance camp nel 2019 a Roma e non mi aspettavo di trovare clienti, di trovare lavoro. Ero semplicemente incuriosita, volevo rapportarmi a delle persone che avevano magari problemi o esperienze simili alle mie. E invece sì, ho trovato lavoro. Lavoro sia diretto sia attraverso il passaparola. La rete del freelance camp ha funzionato e sta funzionando ancora oggi. Esplora con curiosità. Abbiamo bisogno delle nostre bolle, di avere dei punti di riferimento. Gli esseri umani hanno bisogno di punti di riferimento. Però abbiamo anche bisogno di ricordarci anche di mettere il naso fuori, di essere aperti, disponibili a conoscere il nuovo. E vi faccio anche una domanda un po' provocatoria. Perché le persone dovrebbero avere voglia e curiosità di conoscervi, magari anche di leggere le vostre interviste al freelance camp o ascoltare i vostri interventi, se voi non vi prendete mai il tempo e la curiosità per leggere le interviste degli altri, delle altre persone, per appunto aprire e aprirci e essere disponibili. Quindi condividete, condividete con generosità. Quella che viene definita generosità emotiva è avere a cura il successo degli altri indipendentemente dal proprio vantaggio immediato. Generosità emotiva significa proporre, condividere idee, progetti, mettendoci nel pane degli altri, cosa può essere utile per gli altri. Significa avere la responsabilità e ricordarci che abbiamo la responsabilità di mettere del valore in rete. Quindi sì, il freelance camp funziona se utilizziamo gentilezza e coraggio. Io ho ottenuto parecchi lavori, alcuni progetti anche grandi e sostanziosi dal punto di vista del fatturato. Quindi abbiamo la responsabilità di lavorare meglio, fatturare di più e rendere il nostro mondo un posto migliore. Grazie. Grazie davvero, Cristina. Io credo che metteremo questo tuo talk nella serie di benvenuto che mandiamo via email alle persone che entrano nella mailing list del freelance camp, perché mi sembra un manuale d'uso davvero perfetto per tutti noi. Vedo che anche molti dei commenti che sono di là nella chat sono già d'accordo con questa scelta. Starei con te anche di più, però siamo andati un po' lunghi con i tempi, quindi ti saluto ringraziandoti di nuovo. Grazie mille.